Ciao a tutti i telelettori del Capoluogo e bentrovati all'ennesimo appuntamento con Grandangolo, la rubrica che ha la presunzione di parlare di politica. Oggi parleremo di politica, politica amministrativa soprattutto e lo faremo con un autorevolissimo esponente della nostra amministrazione comunale, direi il numero uno, trattando di essere il sindaco Pierluigi Biondi, salve sindaco. Salve caro direttore, un saluto a tutti i telelettori. Sindaco, non so, ieri abbiamo parlato, ho avuto una chiacchiera con il suo antagonista, con l'onorevole Pezzopane e abbiamo scoperto che tra qualche mese ci saranno le comunali. Avendolo scoperto ci siamo subito affrettati a trovare il modo di scambiare due chiacchiere. Sindaco, io andrei diretto al cuore del problema, lei è stato diretto sindaco, sono passati quasi 5 anni e parleremo di quello che è successo, ma soprattutto mi interessa una cosa in questa fase. Chiedere al sindaco Biondi come immagina la città da qua i prossimi 5-10 anni. Sì, iniziamo dal secondo pezzo della domanda. Iniziamo dove vuole lei. Beh, io credo che l'Aquila tra dieci anni, che è un tempo consono per una prospettiva politica di una comunità complessa come quella aquilana, sarà il frutto delle tante cose buone che sono state seminate in questi anni. Non parlo soltanto dell'aspetto fisico della ricostruzione della città dell'Aquila. Fra dieci anni per esempio potremmo andare a teatro tranquillamente nella nostra vecchia sede, avremo moltissimi uffici comunali in centro, avremo delle scuole vere e non più dei moduli provvisori e quindi questo è un aspetto importante, ma mi interessa di più quello così immateriale, che è quello delle opportunità che avrà una città come l'Aquila e sicuramente il fatto di aver ottenuto cose importanti come la nascita della scuola di formazione dei vigili del fuoco, come la sede nazionale del servizio civile universale, come la sezione aquilana della scuola nazionale dell'amministrazione, come una delle sei case delle tecnologie emergenti d'Italia. Il fatto che abbiamo partecipato ad importantissimi progetti sugli ecosistemi dell'innovazione e che garantiranno il trasferimento tecnologico, quindi la ricerca che diventa manifattura, manifattura di qualità e quindi genera lavoro, saranno cose che metteranno l'Aquila nella condizione di avere un grande indotto e un grande apporto di giovani. A proposito di giovani mi piace anche citare per esempio la fondazione Ferrante d'Aragona per l'istituzione nella città dell'Aquila di un collegio di merito, partiamo con 600 posti letto, voi immaginatevi che ricchezza sarà per l'Aquila avere un luogo dove poter ospitare studenti meritevoli che vengono da ogni parte d'Italia e non soltanto del mondo, basta vedere l'esperienza del Gran Sasso Science Institute, che è un'istituzione che abbiamo blindato grazie ad un'operazione portata avanti dal senatore Quagliariello unitamente al premio Nobel Rubbia che ha garantito uno stanziamento tale da poter programmare le attività di questa fondamentale istituzione, le collaborazioni che stiamo avendo con l'Università dell'Aquila e con le altre maggiori istituzioni pubbliche, dalla sovrintendenza al segretariato, dal conservatorio all'Accademia di Belle Arti, il lavoro importante che stiamo facendo con le istituzioni culturali, la visibilità della città dell'Aquila, se come ho spiegato ci sarà la visita del Papa per l'apertura della Porta Santa del 2022, l'Aquila raccoglierà in questi anni il frutto di tanto lavoro che è stato messo in campo. Mi perdoni Sindaco, quello che volevo un attimo puntualizzare è questo, come le dicevo ieri ho avuto ospite l'onorevole Pezzopane che tra le altre, è stata devo dire anche abbastanza dura nei confronti della sua amministrazione in generale e quindi mi sembra giusto riportargli e chiederle anche eventualmente una replica, una risposta come giusto che sia. L'onorevole Pezzopane ha avuto un passaggio molto duro rispetto a rappresentare un sistema di potere a capo della città che utilizzi anche dei mezzi poco carini, non voglio dire leciti o illeciti, ma comunque non lo ha detto, ha criticato molto, ha stigmatizzato alcuni atteggiamenti che la sua amministrazione avrebbe messo in campo, adesso in campagna elettorale etc., rispetto a clientele o cose di questo tipo. E poi un altro passaggio è stato molto… oltre al fatto, mi perdoni di aver chiarito che molte delle cose che questa amministrazione abbia messo in campo siano state poi avviate da altri soldi in cui anche lei avrebbe lavorato, progetti a cui avrebbe lavorato per poter essere finanziati e dei quali la sua amministrazione avrebbe beneficiato e goduto. Ma la cosa che mi ha colpito è stata una sua affermazione, un passaggio nel quale ha parlato di un nulla cosmico, più o meno, rivestito da uno sbelluccichio estivo e nulla di più, facendo riferimento alla perdonanza e ai tanti soldi buttati, secondo lei, spesi buttati in questa perdonanza. Ecco, lei cosa sente di rispondere? Spacchetto la domanda. Per quanto riguarda, partiamo dal sistema di potere, ricordo all'onorevole Pezzopane che il sottoscritto e nessun componente dell'aggiunta in cinque anni, fino ad oggi, ha mai avuto un avviso di garanzia o è stato indagato per qualcosa collegato all'attività amministrativa? No, però mi perdoni, forse lo sono spesso male io, non ha parlato di illicità, di scelte, quando si dice, quando si afferma in un'intervista che ci sarebbe qualcuno che è stato costretto a candidarsi. Ecco, quindi lei ha sentito, ha seguito l'intervista, non mi pare, non mi perdono, ecco che. Costretto a candidarsi perché lo abbiamo stabilizzato, perché gli abbiamo dato i contributi, si ravvisa una fattispecie di reato specifico, quindi se la Pezzopane conosce circostanze, le potrebbe rendere pubbliche e anche denunciare alle autorità competenti. In caso contrario, la Pezzopane si renderebbe responsabile del reato di diffamazione, per cui ho già acquisito l'intervista, ho chiesto all'Avvocato dell'Ente e al mio Avvocato personale di rilevare se è passibile di denuncia, in maniera tale che la Pezzopane, se non vorrà schermarsi dietro l'immunità parlamentare. A proposito poi, magari ci farà sapere anche la Pezzopane, visto che ha detto che rinuncia al Parlamento per fare il Sindaco, se si dimetterà prima della competizione elettorale o lo farà dopo comunque andranno alle elezioni, perché se dice che rinuncia al Parlamento per fare il Sindaco le due cariche sono incompatibili, quindi è obbligata, quindi non sarebbe una rinuncia, sarebbe un obbligo, quindi sarebbe interessante sapere se si dimetterà comunque vadano le elezioni, o anche prima magari. Questo glielo chiederemo in un prossimo confronto che mi auguro di potere. Dicevo, se non si schermerà dietro l'immunità parlamentare, una volta che io avrò presentato una denuncia in tal senso, potrà andare dall'autorità e rivelare nomi, cognomi, circostanze precise. Se così non fosse dovrà rispondere di quello che ha detto. Per un motivo molto semplice, perché io amministro, ormai faccio il Sindaco da 16 anni e ho gestito molti milioni di Euro. La mia attività politica è sempre stata specchiata, non ho mai avuto neanche un menticello sul mio conto. Ho ricevuto una denuncia per abuso ed omissioni di atti d'ufficio che è stata archiviata addirittura su richiesta del Pubblico Ministero, riferita a una cosa pregressa e più niente, niente altro. Quindi il sistema clientelare presuppone che io faccio una cosa e tu me la dai in cambio. Si chiama voto di scambio questo, che è un altro reato. O il traffico di influenze, che è anche un altro reato. Io non ho messo in piedi un sistema clientelare, ho messo in piedi un sistema di buona amministrazione. E quando un Sindaco, una giunta, una maggioranza amministra bene, i cittadini sono riconoscenti. Attraverso un gioco molto antico che si chiama democrazia. Il voto, il consenso deriva sulla base della qualità dell'amministrazione. Quindi detto questo sulla prima parte, poi rispondiamo sulla seconda parte. Io ricordo che il PD, pur non vincendo le elezioni dai tempi di Prodi, governa questa nazione con maggioranze variabili da tempo. Perché è un partito che si adatta ad ogni stagione. Basterebbe leggere che cosa diceva l'onorevole Pezzopane del Movimento 5 Stelle, poco tempo fa, quando è nato il governo giallo-verde. Adesso oggi si trova a governare insieme e rivendica risultati ottenuti addirittura con il premier indicato dal Movimento 5 Stelle, Conte. In particolar modo la Pezzopane ha riferito dei fondi per la ricostruzione. Basterebbe andarsi a rileggere i resoconti della conferenza stampa che fece in un noto locale del centro dell'Aquila, insieme a Giovanni Lolli, al capogruppo del PD Stefano Palumbo, credo anche a Massimo Cialente, in cui quando io alzai l'attenzione sul rifinanziamento della ricostruzione, addirittura consegnando un dossier nelle mani di Mattarella, invitato all'Università di Teramo, dissero che ero stato istituzionalmente sgrammaticato, che le risorse c'erano e che non bisognava chiederle, salvo poi rivendicare il lavoro fatto dal sottoscritto insieme ad alcuni parlamentari e grazie alla credibilità dell'amministrazione ha portato al rifinanziamento della ricostruzione con 2 miliardi e 8, esattamente lo stesso modello di credibilità per cui il sottoscritto è stato inserito nella cabina di regia del fondo complementare per le aree Sisma 2009 e 2016-2017, quindi il centro Italia, lo stesso motivo per cui siamo riusciti attraverso un'azione parlamentare a mettere riparo alla norma disarticolata e dannosa che la Pezzopana aveva proposto relativamente alla stabilizzazione dei precari. Per tutto il resto risorse da parte della Pezzopana non ce ne sono state, le risorse vengono dal governo, dagli italiani e tutti i governi hanno assicurato la continuità nella ricostruzione del lago, tranne uno il governo Monti, Berlusconi 10 miliardi e mezzo, governo Letta 1 miliardi e 8 e per ottenere 1 miliardi e 8 dal Presidente del suo stesso partito Cialente dovette riconsegnare la fascia e ammainare le bandiere ricolore, se vi ricordate bene io da un Presidente del Consiglio di colore diverso dal mio ho ottenuto 2 miliardi e 8, governo Monti 0, governo Renzi 5 miliardi e 100, governo Conte 2, 2 miliardi e 8, i conti sono presto fatti. Forse la Pezzopana è da fastidio che la credibilità dell'amministrazione si traduce anche in un rapporto diretto con ministri, sottosegretari, alti dirigenti dello Stato, faccio un ultimo esempio che è il Festival degli Incontri, volevano sperperare 700 mila Euro in due giornate di pseudo cultura senza alcun coinvolgimento delle istituzioni culturali del territorio, io mi sono opposto, hanno detto ha perso i soldi, abbiamo firmato non più tardi di un mese fa una convenzione col Ministro Dadone, Ministro del Movimento 5 Stelle che ci ha garantito l'erogazione di questi 700 mila Euro, cofinanziati con 100 mila Euro da parte nostra, su un festival che si chiama Riscoprire l'Europa, riscoprire le veri basi dell'Europa, l'Europa della cultura, l'Europa laboriosa, l'Europa della creatività. Il nostro progetto è piaciuto talmente tanto che il Ministro Dadone ce lo ha finanziato senza alcun problema e anzi ne approfitto per ringraziare lei e la struttura del Dipartimento della Gioventù a partire dal capo di gabinetto Panebianco, passando per il capo di partimento Vicchiarello. Sullo sbrilluccichio, alla Pezzopane forse da fastidio che lei per anni ha sperperato soldi, i cantieri dell'immaginario che rivendicava con un risultato, costano oggi, costano la metà rispetto all'epoca Pezzopane, basta confrontare i cartelloni. In verità lei, mi perdoni sindaco, l'onorevole ha parlato di, diciamo che quest'estate comunque il focus è concentrato sulla perdonanza, che è chiaro, con il contorno di tutto. Non è vero perché noi abbiamo... No, 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 quello che l'onorevole ha detto. Ha parlato anche dei cantieri dell'immaginario. Sì, però la città ha fatto un passaggio in cui ha detto, ha parlato di una perdonanza costata dieci volte quella costata a lei quando nel breve periodo... Perché noi abbiamo fatto un'attività di risanamento del bilancio comunale, abbiamo ottimizzato i costi, non abbiamo avuto trasferimenti straordinari per la perdonanza, anzi semmai le opportunità a disposizione sono inferiori rispetto a quando la Pezzopane faceva l'assessore della cultura. Sui fondi Restart c'è stato un taglio, un calo, per cui sul filone cultura c'erano 2 milioni e 100 e oggi c'è un milione e mezzo, quindi 600 mila Euro in meno. Abbiamo saputo trovare nel bilancio, attraverso un'attività, ripeto, di risanamento, le risorse necessarie. Abbiamo pagato tutti, siamo in regola con artisti, fornitori, personali a vario titolo impiegato, facciamo semplicemente le cose meglio, con più intelligenza e questo naturalmente è dovuto anche alla maestria di Leonardo Di Amicis che grazie ad un rapporto privilegiato con un mondo artistico di livello riesce a convoiare sull'Aquila spettacoli pensati per l'Aquila. Quando mi sono insediato il primo anno la perdonanza era Massimo Ragneri, Paolo Abelli e Ermal Meta. Possiamo vedere la perdonanza di oggi e non è solamente una questione di costi, perché un cartellone con Renato Zero, con Riccardo Cocciante, due artisti che si muovono molto difficilmente e tanti altri che abbiamo visto non basterebbero non dieci volte, cento volte le somme di cui parla la Pezzopane. Quanto allo sbrelluccichio solo del centro, ricordo che ormai portiamo sia i cantieri che la perdonanza anche nelle frazioni. La rappresentante di lista da Rischia che adesso ha avuto il successo con la canzone Ciao Ciao a Sanremo o con Edoardo Bernato a Paganica e potremmo continuare a lungo, abbiamo anche dei nuovi progetti sull'arte e le frazioni, sulle frazioni stiamo investendo tantissimo, vorrei fare un elenco infinito di opere pubbliche che stiamo facendo sulle frazioni, sulla riqualificazione degli edifici, sugli impianti sportivi. Lo sbrelluccichio è di tutta la città ed è per 365 giorni l'anno, perché per esempio gli eventi culturali in genere non c'è un giorno libero dai primi giorni di giugno fino alla metà di settembre inoltrata e poi anche con la collaborazione delle istituzioni culturali, quelle più autorevoli e quelle di base a cui fra l'altro nel 2022 incrementeremo i contributi ordinari, così come io ho annunciato, per cercare di dare una mano post Covid. Mi perdoni sindaco, poi possiamo parlare pure della clientela se vogliamo. Io non ho un parente… Me lo riservi questa cosa, mi auguro che me le riserviate queste bordate a un confronto che io sto aspettando perché ragazzi qui si prepara una campagna elettorale, il fulmicotone con colpi di scena e rivelazioni incredibili. No, no, no. Non scenderò sul livello dell'aggressività dimostrata perché non c'è bisogno di essere. No, no, non parlavo di aggressività, parlavo di un po' di temi e di… A livello di clientela non ho nessun… grazie a Dio i miei parenti lavorano tutti in altro modo, non so se possono dire lo stesso. è carla, è carla. Tutti diciamo coloro che accusano l'amministrazione Biondi di essere clientelare. Perfetto. Sindaco, io a questo punto, perché purtroppo il tempo corre, scorre, è veramente tiranno, però un passaggetto così appena appena, un accenno a parlare dell'andamento della sua campagna elettorale così come visto da lei, mi riferisco ai temi diciamo meno nobili, cioè meno nobili nel senso fatti di liste, alleanze, giochi che servono necessariamente a poter vincere le elezioni perché senza vincere non si governa e quindi non si applicano né idee né azioni. E certo, qualcuno diceva che la democrazia è il peggior sistema possibile esclusi tutti gli altri, quindi è una regola della democrazia anche quella di fare le liste ogni cinque anni, candidarsi e raccogliere o meno il consenso degli elettori. Come procedete con i suoi sostenitori? Perché poi c'è anche il solito discorso dei rapporti non voglio dire ostili, ma comunque a volte un po' esuberanti tra il suo partito, la Lega, ecco sono cose che ve lo rivangate. Come va? Lo Stato o l'Unione? Allora, il confronto anche acceso deriva da una genuinità negli atteggiamenti, cioè noi non facciamo commenticole in cui certe cose ce le diciamo anche in pubblico, anche per un po' di inesperienza, anche per l'esuberanza che deriva da un'amministrazione sostanzialmente giovane, giovane nei suoi rappresentanti, nella maggior parte dei suoi rappresentanti. Noi si incredo da ottobre tutti i partiti della coalizione di centrodestra hanno manifestato la volontà della mia ricandidatura. A questo gruppo storico si sono aggiunte altre aggregazioni, in particolar modo il gruppo che fa riferimento, chiamiamolo così, a Rinaldo Tordera. Ad oggi abbiamo tutte le liste del centrodestra in campo e quindi Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Coraggio Italia, l'Aquila Futura. Ci sarà sicuramente una lista civica del Sindaco come 5 anni fa e stiamo raccogliendo molte altre disponibilità alle candidature, quindi valuteremo anche altre formazioni di altra natura. Hanno chiesto degli incontri per aprire un confronto, un dialogo. Sono delle liste molto solide con esponenti di primo piano della politica cittadina. Il 90% degli uscenti sarà di nuovo in campo e quindi garantendo anche una continuità dei processi. C'è un tavolo di centrodestra che si riunisce a cadenza ogni due settimane circa. di nuovo ce ne sarà uno lunedì. Abbiamo già definito molte cose, stiamo costituendo il gruppo che lavorerà intorno al programma su alcune direttrici che sono già state date, che in parte raccolgono anche il programma di 5 anni fa. Programmeremo anche delle manifestazioni per far conoscere ancora meglio alla città tutto quello che è stato fatto, perché ci sono molte cose che magari devono essere ancora sviluppate per far comprendere a pieno i grandi sforzi messi in campo in questi 5 anni. Sindaco, come dicevo, il tempo è un po' tiranno. Noi siamo assolutamente in chiusura e quindi passeremo direttamente ai saluti. Chiaramente è inutile dircelo, quindi non è una promessa, penso che sarà gioco forza. Nei prossimi settimane il rivedersi, il rincontrarsi. Stiamo programmando un momento di confronto tra i candidati sindaci. Per il momento diciamo che di certi, tra virgolette, abbiamo il sindaco Sciente Biondi e l'onorevole Pezzopane, altre figure, pare che anche il consigliere di Benedetto abbia intenzione di candidarsi. In qualche maniera ci rivedremo. Come vi dicevo, cari lettori, questo oggi è stato, abbiamo voluto scaldare un po' i motori in questi due giorni, partendo dall'onorevole Pezzopane e passando per il sindaco. Mi auguro di avere Chicco di Benedetto quanto prima, appunto per procedere con questo riscaldamento dei motori e prepararci ad una campagna elettorale che, a mio modo di vedere ragazzi, si preannuncia veramente calda. Con questo vi saluto e a prestissimo. Ciao a tutti. Buona giornata e grazie. Grazie.